Salve a tutti voi, come promesso vedremo in questo nuovo video un po' più tecnico alcuni aspetti riguardo l'acidosi metabolica e l'alcalosi respiratoria. L'acidosi metabolica è definita come acidemia dovuta a un deficit patologico primario di bicarbonati. Questa non è da confondere con un abbassamento fisiologico e compensatorio del bicarbonato in risposta ad esempio all'alcalosi respiratoria, motivo per cui in questo video parleremo di due aspetti. Uno che può condurre alla morte e l'altro che viene considerato, cioè l'alcalosi respiratoria, un danno meno pericoloso, però in certi casi, se prolungata nel tempo, può essere mortale. L'organismo può contrastare le variazioni del pH plasmatico generando un aumento dell'impulso respiratorio, cioè aumentando l'espirazione di CO2, di anidride carbonica. A lungo termine interviene il meccanismo renale con il sequestro di bicarbonati, il rilascio di acidi ed un quello aumento di bicarbonati in circolo. Questi sono i due sistemi principali in caso patologico, ma che vengono anche stimolati da un'alimentazione cronicizzata di un certo tipo, come per esempio una dieta prevalentemente carnea o una dieta prevalentemente vegetale. Come abbiamo visto nella formula di Henderson-Halzbach, abbiamo visto che l'acido è direttamente correlato con il pH e dunque le variazioni acide sono molto più significative rispetto alle variazioni con bicarbonati con l'alimentazione. Però in certe condizioni di acidosi cronica, metabolica, necessita anche di una correzione alimentare, come tra poco vedremo. Tuttavia, se questi sistemi di compenso non funzionano o sono sovraffatti, viene a generarsi questa acidosi metabolica. L'acidosi metabolica, abbiamo detto, è quando il pH va sotto i 7,35. L'acidosi metabolica, per esempio, può renare da malattie dei reni, da malattie dell'apparato respiratorio, dal diabete. Per esempio, nel diabete di tipo primo c'è la chietoacidosi diabetica. Può essere secondario all'aumento dell'acido lattico eccessivo, in seguito per esempio ad un infarto miocardico acuto. Ci sono delle mutazioni dei trasportatori acidobase renali, c'è la cosiddetta acidosi tubulare renale, in corso di intossicazione da composti farmacologici, come l'acido acetilsalicilico, o attraverso le perdite di bicarbonati, come avviene nelle diarree escretorie alcaline, come in corso di colera. Quando l'acidosi metabolica è secondaria a un disturbo, come il diabete o come la diarrea, alla base c'è la correzione della causa scatenante. Per una correzione a breve termine dell'acidosi metabolica vengono utilizzati prevalentemente i bicarbonati. In linea generale si parla di terapia alcalina. Questo porta a un innalzamento del pH plasmatico, che deve superare i 7,35, rimanere nel nostro range fisiologico, cioè da 7,35 e 7,45. Questo può avvenire con due meccanismi. Uno è l'aumento del carico di basi e l'altro è l'abbassamento del carico acido. Qui ricordiamo che la somministrazione dei bicarbonati per via orale, come si è fatta in passato, nelle quantità necessarie per creare una terapia, può portare a lungo andare alla produzione di grosse quantità di diacarbonica e dunque alla rottura dello stomaco. Dunque i bicarbonati per bocca devono essere assunti in piccole concentrazioni, come anche il sodio bicarbonato. Un aumento, per esempio, diretto dei bicarbonati o plasmatico potrebbe essere ottenuto per via endovenosa, come abbiamo poco anzi detto, oppure per l'utilizzo di dialisi peritoneare. Invece un aumento indiretto dei bicarbonati può essere ottenuto attraverso la somministrazione orale, con le complicanze che poco anzi è citato. Sull'introduzione di bicarbonati per bocca neutralizza l'acido che viene prodotto in risposta allo stimolo orale e automaticamente si viene a generare altri bicarbonati, ricordiamo la marea alcalina che avviene attraverso il sistema portale al fegato, come abbiamo visto in un video precedente. Ecco, questo meccanismo, se la quantità di bicarbonato è più alta, diventa un meccanismo tossico, sino alla perforazione dello stomaco, ossia una formazione di un'iperacidità paradossa che porterà al danno gastrico. La somministrazione di bicarbonati, indipendentemente dalla via, può portare a uno sculibrio di due elettroliti che, ricordiamo che l'ione bicarbonato è negativo, i due elettroliti che correlano con l'ione bicarbonato sono il sodio e il potassio. Dunque si può osservare un'alterazione del sodio, c'è un meccanismo di ritenzione di liquidi oppure uno sculibrio del potassio anche patologico. L'altro aspetto che ho prima citato riguardante la somministrazione per via orale è l'aumento dell'anidride carbonica, meccanismo che avviene anche alla somministrazione endovenosa, con tutte le conseguenze. La dismissione di anidride carbonica, cioè si crea una ipossia di aumento di anidride carbonica, se l'apparato respiratorio non funziona bene o l'acitosi è troppo spinta, può portare a un effetto paradossio, addirittura di morte della paziente e lo stesso può portare a un'acidemia cellulare. La dosi di bicarbonati deve essere ben titolata per evitare un superamento eccessivo del pH, con tutti gli effetti paradossi della somministrazione, dunque stare sempre un pochino più in basso. Questi lavori che ho citato in queste breve nozioni portano a dire che la somministrazione di bicarbonati non è una cosa così scontata, dunque può avere anche degli effetti collaterali severi, cioè noi andiamo a curare una cosa severa e la risposta all'aumento dei bicarbonati potrebbe diventare qualcosa di ancora più pericoloso. L'altro aspetto è la riduzione con la dieta del quantitativo acido, dunque una dieta alcalina e qui entra in gioco il PRAL, motivo per cui è stato stabilito questo criterio, cioè gli alimenti alcalinizzanti. Dunque nelle acidosi croniche, per esempio, l'utilizzo di un'adeguata alimentazione può essere decisamente d'aiuto. Dunque ridurre le proteine nella dieta, in particolare le carne, ma anche le proteine in generale, potrebbe avere un effetto alcalina, per esempio aumentando la parte vegetale. Un ultimo aspetto su cui non mi dilungo per non allungare troppo il video e per non rendere troppo tecnico questo video, è che si possono anche abbassare ceglioni e idrogeno attraverso un'aumentata escrezione. Qui entrano in gioco anche determinati farmaci specifici. Ora andiamo a valutare l'alcalosi respiratoria, che viene considerato un aspetto benigno della variazione del pH. Ricordiamo che l'alcalosi respiratoria è quando il pH è superiore a 7,45. Essa si manifesta quando la pressione parziale di energia carbonica plasmatica è minore a 35 mmHg, a riposo e a livello del male. Ricordiamo che tutti i parametri di riferimento dei disturbi acido-base hanno a che fare con la ricalizzazione geografica e con l'altitudine, oltre che con il sesso, con l'etnia e con l'età. L'alcalosi respiratoria si verifica quando il sistema ventilatorio non funziona correttamente. Questo provoca un aumento della ventilazione alveolare o una ridotta riduzione di CO2, con conseguente deplezione di CO2 dal sangue, praticamente l'iperventilazione. Una crisi d'ansia prolungata può portare a questo fenomeno qui. L'iperventilazione può derivare dalla stimolazione dei centri respiratori, ad esempio secondaria dei farmaci, a problemi psichiatrici, l'ansia come abbiamo poco anzio detto, le crisi di panico, a un'iposia dei tessuti, per esempio dovuta allo stare ad elevate altitudini e a tutto il capitolo delle malattie polmonari, come la polmonite. In questo periodo ne abbiamo visti di questi casi. La riduzione della produzione di CO2 deriva da una diminuzione del metabolismo basale, ad esempio a causa dell'ipotermia. Ricordiamo che il metabolismo basale viene regolato dagli ormoni tiroidei, un malfunzionamento della tiroide cronico non riconosciuto nel tempo. L'attività fisica, per esempio in corso di paralisi muscolare. Le manifestazioni cliniche dell'alcalosi respiratoria sono praticamente il respiro frequente, che aumenta sempre più di frequenza, e lo stato di vertigine fino a aggiungere allo svenimento. Anche se l'alcalosi respiratoria non è considerata un'aspetto grave dell'equilibrio acido-base, dello squilibrio acido-base, essa può portare anche, se prolungata, a danni cerebrali, polmonali e cardiaci. C'erano dei lavori interessanti in cui hanno visto, per esempio, che la terapia ormonale sostitutiva in donne in post-menopausa ha generato degli episodi di alterazione del pH generando queste alcalosi respiratorie e la risposta è stata interrompendo il trattamento ormonale sostitutivo in cui, sospendendolo, l'alcalosi scompariva. E con questo ultimo dato poco conosciuto, finiamo anche questo video sull'osculibrio acido-base. Se poi vi interessa approfondire ulteriormente con altri aspetti, ricordo che la dieta altera l'equilibrio acido-base. Nel range fisiologico ci sono, per esempio, dei periodi della giornata in cui l'equilibrio è più acidulo e in momenti in cui l'equilibrio è più alcalino, per esempio di notte si tende a una lieve acidosi fisiologica, dobbiamo fare distinzione, abbiamo definito l'acidosi e l'alcalosi che parametri è nella patologia, ma nel range fisiologico più ci avviciniamo al 7,35 più lo consideriamo un'acidemia fisiologica con tutte le conseguenze adattative e così via. In certi soggetti si può andare anche sotto i 7,35 senza avere alcuna manifestazione clinica e non essere considerata un'acidosi metabolica patologica. Questo dipende dall'etnie, dal sesso, all'età e così via, come abbiamo visto anche e accennato nel video precedente. Dunque l'aspetto acido-base su cui si scrivono tuttora tanti articoli e tanti volumi è un aspetto ancora in gran parte sconosciuto e in parte e in parte ancora in studio per chiarire meglio i fini meccaniche molecolari anche a livello cellulare. E con questo terminiamo anche questo video. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi e grazie a tutti voi per seguire questo canale.